Ma una piccola intervista alla nostra partecipante dell'ultima finale di Boxatori, Donatella, detta la donna Wonder Woman. Ciao Donatella, allora, ciao Raghi. È stata un'esperienza interessante, sono veramente onorata di aver calcato il palco con questi bravi giochi. Sono felice della vincita e avrei un appello per l'umanità perché adesso Becky Schillo tiene. Salvateci, per favore, salvateci! Hai ragione tu! Siamo in grandissimo pericolo!